Che posso dire su Harry Cartier-Bresson? È il dottore della fotografia di strada. Qui, in particolare, c'è questo aspetto reale, perché le finestre del bambino posizionate in questo modo, ma anche le persone. Non? Si sembra come un stage. Si sembra come qualcosa che mostra l'umanità, con tutti questi bambini e un uomo lavorando solo nel medio di questo frame. Quindi, credo che è un altro fotografo, uno dei molti del maestro francese, Harry Cartier-Bresson. E, ovviamente, avrei aggiunto Harry Cartier-Bresson perché Harry Cartier-Bresson era molto importante nella mia formazione come fotografia. Lui mi è abbandonato un tra film, ma Harry Cartier-Bresson remains di per qualcuno di fare fotografie strade e documentari, quindi credo che è necessario essere qui ma non volevo aggiungere le foto più famose, in mio opinion questo fotografo è... preferisco questo fotografo perché le altre foto più famose sono utilizzate molto e non mi dico che non mi piace queste immagini, ovviamente mi piace, ma preferisco questo fotografo per mostrare cosa era la ricerca visuale del maestro francese, è molto surreale in un aspetto che sembra come una stagione, come qualcosa costruito in un certo modo, con la composizione in questo modo, con i bambini, con i bambini e gli altri passando, le finestre in questo modo, in questo modo, tutto funziona molto bene in questo fotografo, quindi sono davvero desiderato di essere inclusi in questa serie. Grazie a tutti!